Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale degli Exxon eSports, io sono Delican e questa è la mia nuova playa review Una playa review molto particolare perché è frutto dei commenti, delle interazioni che ci sono tra noi, staff del team e appunto voi Siamo contentissimi che ci state seguendo su Instagram, che state commentando i nostri video, le nostre review, i nostri spotbuilder Ci avete chiesto fate Pato, fate Pato, Delican risponde presente, non ci facciamo trovare impreparati e siamo qui ad aiutare tutti coloro che vogliono sapere Bisogna fare Pato flashback? Non bisogna fare Pato flashback? Durante questo video scopriremo il perché Pato può essere un giocatore adatto a voi Ma soprattutto un SBC mirata a un determinato risultato Ricordiamo ragazzi che rispetto a due giorni fa l'SBC si è scesa notevolmente Quindi magari all'inizio per colpa delle sfide che Electronic Arts appunto aveva lanciato Tanti giocatori utili per la sfida erano veramente alti, soprattutto gli 84 sappiamo tutti che servivano per l'IF garantito Con, non dico il crollo, ma un abbassamento importante del prezzo di questa sfida Pato inizia ad avere la sua valenza e soprattutto la finalità per cui bisogna fare Pato a mio avviso Perché adesso i prezzi si rialzeranno, quindi tanti giocatori saranno imprendibili Mentre poi ci sarà una lenta ma poi repentina ricaduta dei prezzi con l'avvento appunto dei Toti Quindi se voi volete un attaccante che vi porti a gennaio facendovi fare ottimi risultati in WL Pato è l'attaccante a mio avviso che fa assolutamente al caso vostro Perché Pato è un giocatore che secondo me a me ha colpito e che io stesso terrò nella mia squadra fino appunto gennaio Perché Pato innanzitutto ha delle specialità che le carte precedenti di Pato non hanno Cioè se noi andiamo a vedere le specialità rispetto sia all'IF che appunto alla carta NIF Abbiamo Dribbler, Acrobat, Clinical Finisher, Complete Forward e Poacher Queste ragazzi specialità non sono presenti nelle versioni precedenti Diversamente invece da Speed Dribbler che c'è anche nelle versioni precedenti Quindi che cosa ha voluto fare appunto Sonic Arts con questa carta? Lo ha voluto appunto rendere un attaccante completo Un attaccante che addirittura può rimanere tranquillamente anche come punta solitaria in un 4-2-3-1 Dove l'ho provato io In un 4-3-3 ma può benissimo secondo me rendere molto bene anche nel rombo Visto che con la nuova patch sembra che il rombo stia tornando prevalentemente un modulo molto molto efficace Avere una punta che è forte di fisico ragazzi perché ha 83 di fisico Che se noi mettiamo la carta Falco non facciamo altro che pompare tiro fisico e velocità E renderlo ancora più devastante Sì perché ragazzi riguardo la velocità Pato è proprio il Pato della sua miglior stagione Il Pato rosso-nero parliamo di 87 di accelerazione ragazzi 89 di velocità Questo giocatore cerca sempre come stiamo vedendo in questo momento a provare a eludere la linea difensiva Quindi punta tantissimo la porta Mentre magari non viene molto incontro ai difensori Ma se gli date palla Come in questo caso riesce benissimo a fare sia gli 1-2 col COC ma anche a difendere palla Quindi con la carta Falco non facciamo altro che dargli quella forza in più per resistere Visto che con la nuova patch finalmente si può riuscire a difendere palla in maniera egregia A rendere Pato ancora più performante Ovviamente che cos'è che balza all'occhio anche il 90 di dribbling ma soprattutto ragazzi il 90 di finalizzazione Anche se ha 3 piede debole ragazzi ho segnato di sinistro anche con Pato in maniera del tutto naturale Quindi veramente un attaccante completo Non ho visto cannare tiri di sinistro Quindi il complete forward è un tratto veritiero Passando ad altri aspetti ragazzi Abbiamo la resistenza La resistenza ragazzi in carta è 76 Allora noi siamo sempre a un bivio quando abbiamo questo tipo di abilità comunque dato statistico della carta Se noi mettiamo rimani in avanti a Pato Pato tranquillamente vi terrà tutta la partita Quindi non diventa un vero e proprio contro Ma se vogliamo già fargli fare di tornare indietro a recuperare palla Allora Pato vedrete ragazzi che dal settantesimo comincia ad avere qualche difficoltà Quindi la stamina per dovere di cronaca per chi magari utilizza questo tipo di gameplay È sicuramente un contro Mettendo anche il 76 di balance Ragazzi quest'anno il balance è una statistica secondo me molto importante E quindi spesso sulle spallate Pato perde leggermente l'equilibrio Quindi ragazzi la valutazione complessiva è assolutamente 84 Un giocatore veramente veramente efficace Non raggiunge il 100% perché comunque ragazzi è comunque una SBC È comunque un giocatore che sicuramente andando avanti col gioco Svaluterà la propria forza Ma se avete bisogno di un attaccante immediato Volete risparmiare dei crediti Volete fare ottimi risultati in VL Infatti abbiamo messo giocatore da VL sì Pato è il giocatore che fa per voi Quindi sbrigatevi a completare la sfida Commentate sotto il video se siete d'accordo Se vi è piaciuto Pato Se avete intenzione di fare Pato E lasciate soprattutto un bel like a questa review Così facciamo crescere il canale E soprattutto la nostra passione per FIFA Bella a tutti ragazzi Ci vediamo alla prossima review